Un augurio di buon lavoro e di buoni risultati alla sede di Oristano che ha saputo organizzare questo bellissimo momento, bellissimo evento che si rivolge a tutti i cittadini perché l'ambulatorio nasce soprattutto per portare la logica, il criterio della prevenzione della cecità verso gli altri. L'Unione italiana ciechi e ipovedenti, oltre ad avere la tutela delle persone che non ci vedono, ha anche il dovere morale di impedire che gli altri abbiano a soffrire le stesse condizioni. Noi poi come Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità abbiamo lasciato qualche settimana fa, proprio in Sardegna, una struttura mobile, un ambulatorio mobile oculistico, un ambulatorio che abbiamo voluto chiamare appunto AMO, proprio nel senso dell'amore verso le persone perché questo mezzo mobile si muoverà per tutti i paesi della Sardegna in modo da poter sottoporre i cittadini a visite oculistiche gratuite che saranno la prima visita, quella dalla quale potrebbero sorgere allarmi per tutelare la propria vista, eventualmente per essere presi in cura da un ospedale o da una struttura oculistica che possa provvedere alle cure. Per noi è importantissimo che in Sardegna si realizzino questi ambulatori e che si svolga questa attività mobile sul territorio.